un pacco per lui dovrà avere un pacco per me mappa città ci vediamo va bene va bene va bene smettila uno che si stacchi un po dagli altri ci vuole e poi prima che si evolve i dragon aero passiamo gli anni già hit molly dio sono andiamo tutti di speciale oddio sentisci fatto attacco di x cosa devo fare mi aiuto eh continuo ad attaccare no ragazzi ci sono andatissimo perché perché sono andatissimo c'è utente non sono morto ragazzi ci non puoi capire che culo ma hai vinto ma hai vinto ma non vuol dire quello rosso devo liberare Charmander ma devi liberarlo sul fanel scusate quando un pokemon muore in una nazzlocca è morto e me lo dici solo ora sul fanel è stato bello a mezzo l'hanno spento finchè è stato possibile ha bruciato un pochino ultime parole brucia avrei sempre una fiamma nel mio cuore nooo ma devo battere sennò non vado più avanti devo mettere in pratica le cose che ho imparato altrimenti me lo dimentico non puoi avere magica ti prego ti prego ti prego robin strongman mi stai scherzando ma è di divinazione esclusivo zitto che forse sei l'esclusivo ah tutto male cazzo tornado confusione eh buonanotte venga quando cazzo toglie però almeno mi da tanto se muore se muore se non 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 muore mi vincito piuttosto mi suicido suicido in diretta nasce tornado fa tanto eh 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 paralizzato attenzione eh attenzione cosa ti avevo detto io di legge guard che tutto è possibile più PIZZENTE si toglie anche la paralisi cioè vorrei sottolineare questo CHI PIZZENTE sottolineare il riposo fa brutto colpo ci aggiunge un pezzo di vita da che amore e però qualche tornado hai usato figa bello dammi 500 punti 270 sarebbe il minimo 70 ma manco nella vita trago di infame patate come facciano lo strongman quella roba lì va bene una bambina ma sono certo che ce l'avresti fatta per la tua abilità io non ero certo che ce l'avresti fatta dopo lì parla col tuo amico fatti dallo strumento va bene va bene pozione ma da la pozione sappiamo come funziona la pozione ma guardi ho ancora un po' che cro... ah ok sei un caso come pochi si va bene si non so che erano tutti si vedi che erano tutti si suono erano solo... cioè devi fare... infatti ho fatto così io ho fatto così 1 2 3 fantastico meraviglioso ecco il pokecron vai e sei neanche loro esatto se potete sapere che sono le 16 e 16 mi avete smascherato nooo aspetta 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 mi ricordo una cosa importantissima best cosa importante ever che tizio Kai c'era un tizio Kai che ti dava l'amo se tu hai un amo vuol dire che duplichi le possibilità di avere pokemon ok tizio lui vediamo vecchio ok ecco prendiamo vecchio vedi dal verso vabbè è al 5 e non c'è un dragovski colpo allora come prima cosa si paralizza perchè si allora scheller fate chiare amicizia lunga premete B ragazzi oh stavolta siete sti bravi vedi dove stavo a premere B e abbiamo due pokemon d'acqua non mi piacciono avere così tanti pokemon d'acqua B va e c'è un simbolo in giapponese ma c'è sempre nooo ma c'è l'abitudine di merda ok la prossima oh ce l'ho antipro questo è un'azione ti fa schifo? oh no ma oh no cioè questo tizio qua è tipo il counter precedente decisamente decisamente scheller il qua ed il la e basta io tre mosse ho contato potrebbe non averne una qua tutto colpo di figa ok adesso devi proprio fare pokemon si potrebbe non togliere un minuto si vai ragazzi premete B dovete premere B dovete credere in me non state credendo in me siete inutili ah no azione si è liberato da B ci sono quattro pokemon usale bene credetemi ragazzi si dica se credete in me adesso eh dai dai già basta basta solo rocce rocco perchè perchè è duro come la roccia eh si non c'erano i simpaticoni di team galassia tra un po' non lo so non lo so non mi ricordo come lo so dopo la prima medaglia mi sa ok noi siamo il team galassia siamo fortissimi ma abbiamo tutti giubati nel gioco normale nel gioco normale ricorda quello ma qui abbiamo questo è il grande figlio dell'Ideas della danza qui abbiamo tre di alga un palchia un Gesù Cristo un Don Matteo e la sua bicicletta della serie cosa li catturiamo a fare ragazzi vai merito ho paura tanta paura tanta paura dimmi che non hai preso a te che c'era sul percorso di prima no ho preso qui la ma che c'era sul percorso di prima chi l'ha visto qui la io vado di tornado perchè tanto sono forze di tipo tipo forte sono e dov'è gli sparo allora voi spariamo non essere imprudente non è finita qua ma solo tu è poco io ne ho quattro ma fanno tutti cagare a parte Taglowski tentenna vai col tentenamento allora per il mio prossimo barbatrucco lui dovrebbe avere marito giusto? si sto pensando a fare una cosa che io ho golem perchè lui è azione ma golem non fa niente azione cioè azione non fa niente a golem e in più le sue mosse di tipo terra di tipo elettro non vanno su di me effettivamente vigore in tutto da vigore perchè volevo farlo salire un pochino di livello anche lui mi sembra lecito e non dovrebbe potermi paralizzare tecnicamente no no un po' se il terra eh non so se stati così Dio santo amore però perchè ho fatto fangata? beh in caso lo riduco per i prossimi sembra che spari merda non dire così al mio povero golem ma è vero lui va diruggito come un po' attento lo faccio fuori a forza di uno ti dico e ti faccio fuori a forza di uno cosa vi è andato di statico? come puoi rimanere? è terra è tor terra non ha senso gli faccio uno sul serio e lui ti fa 20 ti fa uno anche lui vai a forza di uno pensa che avete tipo nove livelli di differenza o cinque usaci oh non avevo il sguardo eh in caso lo cambio metto dentro dragon sono più veloce io più veloce sei un drago sei di livello di si si continui usando città credici credici pecora guarda che adesso c'ha la pozione la pozione bastardo se non l'ho one shot la pecora guardalo BOOM non hai capito la pecore nel bosco BOOM sembra che la pecore nel bosco esplode si ecco tipico delle pecore nel bosco tipo MEB cosa è me? MEB dragoschi 155 rocco sono a 5 vai perchè li ha divisi mi sa si ho perso no pomade waaaa 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 prende quando uno perde fa waaaa ok pokeball ebbè non mi lamento servono affrontiamo Gennaro Bullo che non è mai un bullo affronti pokemon dammi la carica cricket o zoom guarda che se non hai cricket quante te ne dio quante te ne dio quante te ne dio te ne dio c'è il mico davvero è cilino cazzo come glielo tiro giù tornato è luna è acciaio è acciaio lui è acciaio psico quel coso lì è acciaio psico quel coso lì la merdina ok ha usato volgi botta guarda che sono no è solo psico è solo psico? io ero convinto acciaio psico no devo vedere il diamante perchè forse vanno al giorno no ma no ma ero convintissimo acciaio psico io giuro in giurello ma è sempre stato solo io penso volante psico in realtà ok no a volte l'abitazione no no l'abitazione basta che non fai l'ultimo canto va bene? tu devi fare questo aaaah ma te no però trovare tipo otaria con l'ultimo canto hm tipo glielo metti switch metti switch metti switch ha schifo provo così come vincere la lega hashtag è vero? non cambiano proprio? o sono più intelligenti di quanto pensiamo? drakowski alluminci impari qualcosa provo ad andare a vedere eh suablo abbiamo parlato di altari appare suablo e il problema è che essendo evoluto non impara mai le mosse secondo me dici? provo ad andare a vedere è molto contesa questa che vencerà? lui si continua a farmi giusto ancora un po' ciao ciao è morto malissimo va bene va bene non vedevo un brutto colpo dal 1964 è andato meno qua di 1964 cazzo ma come sale così tanto? due e fin e una terza e non ha senso che per una terza salga così tanto o c'è anche l'acqua vero ma prenderemo solo dall'erba forse perchè non ho così tante pokeball stai scherzando? vai che devi prendere questo simpatico qua guardalo come guardalo che sguardo intelligente e qua vuol dire adesso ti stupro liberati 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 no era destino non ci dispiace ma nessuno lo vuole bistof sono fatto del sto forse bistec perchè uno tipo usero bistec tipo che bidoff ho premuto b no ok non scherzavo ho premuto a io ho visto dall'acca poi arrivo sullo schermo giusto 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 senso perchè mi dicevi ABY ABY cosa ho combinato cosa ho combinato cosa ho mai fatto nella vita che ragazzi dovete premere B ricordatevi premete B ma un po' come un po' liberarsi dalla paralisi no allora se non ha no ragazzi non state premendo B non sto premendo non sto premendo con la testa ed è meglio cambiare Sheldr perchè già ho mi fa malissimo le dita tipo il mio computer la K e la L non funziona mai il video sei mia sei mia vabbè dovevano esserci due puntini ma non ci sono quindi niente forse nemmeno altri sono stupido può darci che io sia stupido non mi so premendo mi esci guarda quanto non esci se riesce il luxarei figlia se riesce il luxarei ci starebbe anche tanto è un buio acqua buio buio acqua perchè l'altro è psico acqua beh io vado giù di tornando più gente magari tentena anche ragazzi quando arriviamo a 15 siamo a cavallo ricordatevi questo non dovrebbe farmi un emerito tubo infatti tipo eeeh non mi ricordo è apparentemente nel cartone il mulinello di Pippla si ma non solo quello di Pippla ma in generale quello di Pippla grosso così una coppa un presentatore un allenatore e hai qualsiasi cosa nel raggio di cimotiloni qua dove il dragon è tipo eeeh 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 togli più la ferita del mulinello che il mulinello stesso si è vero togli due perchè la ferita del mulinello non è soggetta a tipo tipo c'è giù che troveremo un fermo nell'acqua oh cazzo eeeh eeeh quello rompe le palle qual è l'acqua psico vuoi morire Dragoschi è stato confuso no tu me lo spieghi che funziona all'esposto Dragoschi non è più confuso adesso Dragoschi è stato confuso adesso Dragoschi muore a caso tipo perchè ci va perchè questa nazzlock sta andando troppo bene Dragoschi è stufo di vivere Dragoschi si suicida c'è una poke volante di la ma sto cazzo che vado a prenderla vabbè andiamo dai adesso mi da extra dopo lui oh no ho ancora molte clienti è vero? non importa è importante che devi poke non ti vuole fare una macchina scosta no scusa ma se non ti da spaccaroccia come fai rompe le rosse almeno adesso vedi che non mi spaccaroccia è l'ora di cinque no almeno quelle è giusto è giusto allora chi mettiamo davanti per catturarlo Dragoschi effettivamente rompe tanto il bar si chi sarà? nessuno lo so ma mi va bene risata 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 no una risata l'olixd non ho capito cosa vuol dire loli lotoflaug molte risate si ragazzi dovete prendermelo il b questo va a finire nei box quindi primo pokemon nei box in teoria vai nel box si nel box nel box nel box nel box nel box e ci sei finito pure incatenato riferimenti a timitarlo scafio perchè fa un po schifo una con le scafio schifo guardiamone se devi trovare cose che fanno ridere uff ricordo eh io voglio usare una pozione magari ma beh fa proprio 20 non è così buttata via eh ne ho 5 poi perfetto grazie arriva lì infame con le giratine di turno no, è quello di armi ah beh c'è il suo diavolo è un po' bello fin da qui li ho trovato prima qui l'armo fin da qui è così muso non hai capito che cosa somiglia a sin a quel cos'è un po' dopo fuoco no, forse sono un po' come tu vai è più veloce di me chiunque più veloce è pure io no muro di fumo non ci vede più sto sfigato e tipo allora prende la rincosa e la marchi clava un brutto colpo anche questo dragoski se l'altro vince siamo quasi al 15 quasi a quella fatidica ira quindi allora potrebbe essere un problema solo in un caso questo nel caso in cui abbia forza sfera in caso in cui abbia forza sfera è stra rapido forza sfera sky attacca che cosa ero attacco e hai slash ma non poteva capitare a me ma non poteva capitare a me e lei mi conta di quante ti fa più le squadre con l'uomo eh provo con dragoski cioè l'unica e poi c'è un caffolletto ok 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 adesso vengo a vedermi la lotta ma cos'è tu hai una onda di prepotenza subito cioè deve tentennare come non ha mai tentennato in vita sua tipo ma lo faccio o non lo faccio guarda che fa subito ora attacco lo sapevo sta brillando forse sta per morire guarda bistecca questa è la tua venia figlia te lo dico come usarlo al meglio a farla guardi bistecca dai il suono muore ci mancava guarda userei Rocco ma c'ha forza sfera e non ho vigore attivo e vedi proprio Rocco che vola via ho paura perchè ah quindi devi liberare bistecca che spiega userò schifilo e tirare la mano ho fatto tentennare questo ho fatto un secondo Dio questo tizio ho fatto bene di sperare tentenn anche tu vai 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 che lo facciamo giù oh è morto almeno abbiamo tanti punti esperien eh beh ci mancava anche non è anche un livello è un è un è un No!